E' forse l'auto che annovera più primati qui al Kensiki Forum 2021 attesissima perché grazie a lei Toyota si può ampliare ulteriormente la sua offerta di powertrain che è realmente smisurata. Ed eccolo qui il nuovissimo Toyota BZ4X, il primo veicolo della famiglia BZ, ovvero Beyond Zero, il primo BEV totalmente sviluppato sulla nuova piattaforma Toyota per veicoli elettrici. Si tratta di un SUV premium di medie dimensioni che debuterà nel 2022 in Europa e ovviamente anche in Italia con un design molto caratterizzante. Ora ne approfittiamo per un rapido 360 gradi, tra l'altro l'illuminazione qui al Kensiki Forum 2021 favorisce in questa tinta bianco perla di apprezzare le numerose nervature della carrozzeria. Come vedete appunto la personalità c'è e dal vivo ve lo posso assicurare soprattutto qui nel frontale con questo hammerhead e questo profilo che parte dai fari che si sviluppano in lunghezza continua a tutta larghezza. Ci sono dei dettagli poi che parlano di off-road se volete passarmi questo termine abbinato a questo tipo di veicoli. Questi passaruote, i materiali plastici sono molto evidenziati sia davanti che dietro. Nonostante l'altezza da terra non sia poi così sviluppata sia dal punto di vista totale che come luce a terra, mentre la parte posteriore evidenzia uno studio per l'efficienza aerodinamica elevatissimo, mentre qui non mancano fari a led a tutta larghezza. Ne approfitto visto che sono qui per farvi vedere anche diciamo il mini diffusore posteriore con quattro pinne e nel sottoscocca non riuscite a vederlo ma vi assicuro che è totalmente carenato sempre per massimizzare l'efficienza aerodinamica. Ma è il momento di conoscere internamente questo esemplare di BZ4X, partendo ormai come la mia tradizione dal bagagliaio. La capacità è di 452 litri, molto ben sfruttabili, come vedete c'è anche un doppio fondo. È chiaro che a causa del design molto affascinante ma discendente della parte posteriore, il carico verticale è un po' limitato. Non è limitata invece l'abitabilità, se notate le ruote sono posizionate in pratica ai quattro angoli dell'auto e quindi il passo è importante, è importante anche lo spazio per le gambe che è stato assicurato per i passeggeri posteriori che beneficiano anche di tanta luminosità. Qui abbiamo un vetro panoramico ma c'è anche la possibilità di avere il tetto con pannelli solari che assicura, secondo Toyota, un risparmio di energia di circa 1800 km che si possono percorrere grazie all'alimentazione del tetto in un anno, quindi anche il tetto può far risparmiare. Lo spettacolo tecnologico invece, vero e proprio, è qui davanti, lo possono apprezzare sia il guidatore che il passeggero, che si può accomodare anche in questi sedili con poggia a testa integrato e ben profilati. Uno spettacolo innovativo su di una Toyota, come si evidenzia ad esempio dalla strumentazione digitale con questo schermo che è fisicamente proiettato in avanti, quasi ai confini col parabrezza. Uno schermo multifunzione che può essere regolato da questo volante, dal design innovativo con questo posizionamento degli strumenti. Come già saprete, la BZ4X potrà essere anche acquistata in un secondo momento con uno sterzo steer by wire, quindi senza piantone, con una sorta di volante dalle dimensioni ridotte e tanto più spazio anche qui sotto per le gambe del guidatore, ma una soluzione che vedremo solo più avanti. Da subito invece l'Info Telematica è affidata a questo generoso schermo da 12 pollici che permette di gestire anche la navigazione in cloud e tutta una serie di funzionalità gestuali che la BZ4X offre. Qui abbiamo ovviamente il cambio, le modalità di guida, il freno a mano elettroattuato e tanti vani portaoggetti sia qui al centro che qui sotto, con un vano proprio sotto il tunnel centrale e due prese USB-C. Un'auto sicuramente interessante che per posizionamento, bilanciamento, prestazioni, stile permette a Toyota di inaugurare questo segmento nel migliore dei modi. Siamo proprio curiosi di provarla durante il 2022. Come vedete la BZ4X è al centro dell'attenzione, qui abbiamo un secondo esemplare in tinta silver, ma adesso mi vorrei concentrare sulla piattaforma perché diciamo è un particolare dell'architettura che merita un approfondimento. Come vedete le batterie a litio sono posizionate in posizione centrale molto in basso e questo è un notevole beneficio quando si tratta di bilanciamento dei pesi, un qualcosa che negli anni dinamicamente le auto elettriche facevano fatica a migliorare ma che adesso forse grazie a questa architettura potrà essere apprezzata alla guida. Si tratta di una batteria con capacità di 71,4 kWh e questa batteria, e non è un caso se Toyota quando debutta con un'elettrica lo fa in maniera, diciamo, alla Toyota maniera con dei primati anche qui perché si tratta di batterie che sono state studiate per la loro affidabilità ma anche la loro durata, assicurando che dopo 10 anni o 240.000 km l'autonomia o comunque l'efficienza è del 90%. La potenza erogata in cavalli è di 204 cavalli per la trazione anteriore con 265 Nm di coppia e 8,4 secondi nello 0,100 mentre per la trazione integrale, sì signori, si arriva a 217,5 cavalli e 336 Nm di coppia con lo 0,100 che è coperto in 7,7 secondi. Una trazione integrale che è stata sviluppata in collaborazione con Subaru e che permette varie tarature del suo X-Mode, tra l'altro ce ne sono un paio proprio studiate per l'off-road. Ecco, in conferenza stampa è stato nominato anche il Land Cruiser, ora io non mi sento di arrivare a nominarlo qui insieme a voi, però ci sono due modalità appunto, una è stata calibrata per affrontare percorsi con ad esempio neve alta e arriva fino a 20 km orari, mentre ce n'è un'altra ancora più specifica per rocce e off-road particolarmente impegnativo che arriva fino al massimo di 10 km orari. In generale, questo nome l'avevo detto, la velocità massima del BZ4X è di 160 km orari, almeno per la versione a trazione anteriore. Ma tornando nel dettaglio del powertrain elettrico, l'autonomia secondo il ciclo VLTP è di 450 km, un'autonomia che può essere rigenerata, ricaricata in appena 30 minuti all'80% se si usa una CCS2 da 150 kW, con la presa in entrata e ricarica da 11 kW, che sarà disponibile in un secondo momento, immediatamente dopo il lancio, perché al lancio in entrata ci saranno solo 6,6 kW. Molto interessante poi il sistema di raffreddamento delle batterie o anche di riscaldamento attraverso una pompa di calore per massimizzare l'efficienza durante i mesi più freddi. E anche questo fa parte di tutte quelle innovazioni che appunto contraddistingueranno la famiglia dei veicoli BZ di Toyota. Grazie a tutti.